secondo una leggenda in amazzonia c'è un albero che possiede prodigiosi poteri curativi attivati da una speciale punta di freccia fermatela salve ah devo informarvi che l'etichetta è sbagliata siete in partenza? fra tutte le crociere nella giungla amazonica questa è senza alcun dubbio la meno cara ma anche la più elettrizzante occhio arrivo attenti redoni salvaggi signore e signori il momento che tutti stavate aspettando il passaggio dietro al muro d'acqua è l'ottava meraviglia del mondo dobbiamo risalire il fiume fino alla grimace de cristal su continuiamo il viaggio avanti non è il momento io e mio fratello dobbiamo risalire il fiume se ne vada la ricompenserò bene se credi alle leggende crede anche alle maledizioni mi pregherà di tornare indietro la deluderò con immenso piacere 10.000 per portarla indietro viva morta 15.000 30.000 per portare in casa perché costa di più se muoio perché dovrei trasportarla è più faticoso Ecco, ci siamo Oddio, scusi, Frank Però, è in forma Non so nuotare Comprà una crociera sul fiume e non sa nuotare Il prezzo aumenta Non era una leggenda Non era una leggenda